Nuove richieste di modifica ai sistemi di governance con l'istituzione di un amministratore unico e l'azzeramento dei consigli di amministrazione nei consorsi per lo sviluppo industriale. A sollecitarle con una proposta di legge il consigliere regionale IAL, Navazio, che insieme ai cofirmatari Falotico e Mollica, capigruppo rispettivamente di Per la Basilicata e del Movimento per le Autonomie, ha già presentato una PDL sull'istituzione di un amministratore unico nelle società a totale partecipazione della regione Basilicata. La proposta di legge, ha precisato Navazio, si compone di otto articoli e presenta modifiche alla legge regionale numero 18 del 2010, recante misure finalizzate a riassetto e a risanamento dei consorsi per lo sviluppo industriale, variazioni utili per migliorare il processo decisionale, ha aggiunto Navazio, reso problematico dal modello gestionale e dalla numerosità e composizione dei soci del comitato di indirizzo, disciplinati nello specifico il Collegio dei Revisori dei Conti e l'amministratore unico, individuato in base a criteri di professionalità ed esperienza, il suo ambito operativo, i suoi compiti e poteri e il trattamento economico. Per i consiglieri dell'intergruppo di consultazione Navazio, Falotico e Mollica, finalità di questa proposta di legge è recuperare efficienza ed efficacia gestionale, condividendo gli obiettivi proposti dalle più generali politiche di sviluppo economico, attuate dagli organi di governo del territorio.